Risponderemo a tutti quanto prima e scioglieremo i nodi, abbiamo i nostri tempi e gli ultimatum non ci piacciono, a dirlo è il gruppo Democrazia per Praia capeggiato da Anna Maria De Presbiteris, in riferimento alle dichiarazioni espresse dal vice sindaco Pietro De Paola, che venerdì scorso ha lanciato il suo ultimatum. Chi vuole partecipare alle primarie lo dica entro il 31 dicembre e andremo per la nostra strada. Queste le parole di De Paola, che ha anche chiesto una risposta concreta proprio alla candidata di Democrazia per Praia Anna Maria De Presbiteris. Correttezza e chiarezza amministrativa, collaborazione attiva tra la futura maggioranza e minoranza di governo per la discussione di tematiche di pubblico interesse, anticipazione della formazione di governo per evitare candidature che portano voti, ma non qualità e capacità. Sono i tre punti che costituiscono il documento presentato dal movimento per Praia alle forze politiche, che hanno partecipato sabato scorso all'incontro tenuto sia all'hotel Branca. Una volta che i diversi schieramenti avranno costituito le proprie compaggini, ha spiegato il portavoce del gruppo per Praia, Antonino De Lorenzo, potranno sottoscrivere tale documento e renderlo un vero e proprio protocollo d'intesa. La proposta del gruppo ha incontrato il parere della maggior parte dei movimenti che hanno partecipato, una riunione che ha visto la presenza di gruppi politici appartenenti sia all'area dell'attuale maggioranza di governo che dell'opposizione in consiglio comunale. Ci appelliamo anche al senso di responsabilità, ha detto De Lorenzo. In un paese di 5.000 anime non si possono avere così tanti schieramenti. Concorde su questo commento anche il leader del movimento Rappresentiamoci, Massimiliano Cedolia, che annuncia «Entro metà gennaio presenteremo il nostro piano politico e i vari schieramenti», ha spiegato Cedolia, che però non maschera anche una certa delusione. Tanti schieramenti, tante belle parole, ma manca il dialogo e la capacità di convergere in un progetto unitario. Per me, conclude Cedolia, questo vuol dire che la politica a Praia è finita. E riflettori puntati ora su Anna Maria De Presbiteris, che dovrà dire la sua, ed intanto la confusione incalza.